Tu non sai niente, niente! Papà, è difficile per tutti noi, per me, per la mamma, per te, ma non vuole continuarti a chiudersi, a non vedere. Io non credo in quella potenza, io credo in te. La gente di Bama crede in lei. Noi tutti ci siamo aggrappati in un ricordo che cerca di solo dolore. Forse dopo tanta desolazione, è arrivato il tempo di ritornare a vivere. La classe dell'ultimo anno ci ha chiesto di realizzare un ballo di fine anno. E io trovo che sia una bellissima idea. E ora cantiamo il Signore!